Il Teatro Rossini doveva essere pronto per la stagione del ROF e infatti così sarà. Teatro che sarà una delle due location che ospiterà la 43esima edizione del Rossini Opera Festival, oltre alla confermata Vitri Friguarena, dove per 12 giorni di concerti dal 9 al 21 agosto l'opera e la musica lirica incontreranno un pubblico numeroso e multiculturale grazie all'assenza dei limiti dettati dal protocollo anti-Covid. Il ROF che torna a casa sua naturalmente e soprattutto è bello vedere il teatro con la platea, la bucata dell'orchestra perché per quanto affascinante è la situazione con il palco rialzato, sono tutte le invenzioni anche meccaniche e sceniche che siamo inventati nei due anni del Covid, però chiaramente è un po' quello che ci si aspetta per il ritorno alla normalità delle produzioni, la soddisfazione per un festival che ritorna ai numeri e alle dinamiche che conoscevamo, forse anche a qualcosa di più, con già un risultato sopra le previsioni rispetto ai botteghini, ma soprattutto anche un ritorno dai vari paesi del mondo, quindi non solo appunto Francia, Germania e Inghilterra che sono i tre primi pubblici, ma anche un ritorno degli americani, degli giapponesi, insomma di quelle parti del mondo che c'erano precluse dalle normative, dei problemi anche più gravi che abbiamo vissuto in questi due anni. Un ricco programma che tra le tante opere prevede due nuove produzioni e la ripresa della Gazzetta. La prima della Gazzetta andrà in scena il 10 agosto al Teatro Rossini, mentre l'appuntamento con Otello, reintrodotto dopo anni, sarà l'11 agosto alla Vitrifrego Arena. Nel palazzetto avverrà anche l'inaugurazione del festival, che sarà martedì 9 agosto con l'Elecom Torii, concerto che vede su tutti la presenza del tenore peruviano Juan Diego Flores. Devo dire che lo spettacolo che faccio io come cantante è fantastico, sarà molto divertente, è una opera forse la più divertente per me anche come ruolo con Torii nella produzione rossiniana. Alla vigilia del 43esimo ROF sono stati però resi noti anche i titoli del festival del prossimo anno. Abbiamo detto i titoli, la premiera assoluta in edizione critica di Edoardo e Cristina, che era l'ultimo titolo mancante nella programmazione ufficiale, diciamo, delle 39 opere di Rossini. La ripresa di Aureliano in Palmira, che vede il ritorno di Mario Martone, e per finire la Adelaide di Borgogna, che anche quella si è vista solo due volte qui da noi. Grazie.